Sì, Cante, oggi è veramente la giornata perfetta, gol, passaggio del turno e tra l'altro per te anche il tuo compleanno oggi. Sono molto contenta per questa partita, noi abbiamo fatto molto bene, ora è passato in semifinale e poi concentrata per quella partita. Sì, oggi è il mio compleanno, sono molto contenta per la nostra prestazione in questo giorno e anche il mio gol, sono molto contenta per quello. Poi è stato anche, oltre che un gol pesante ed importante, anche molto molto bello, quello del 2-0, la tua rete. Sì, un bel gol, io imparo sempre questo gol in allenamento e oggi si fa. Un 2022 per te è molto positivo perché hai fatto gol alla Fiorentina, hai fatto gol alla Roma, hai fatto gol all'Inter. Sì, io devo continuare così, devo fare meglio, devo essere una buona giocatrice per la nostra squadra e poi il gol viene o non viene, ma devo fare sempre il mio migliore. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.